Ci sono molti lavori che molte persone rifiutano poiché è molto disgustoso. Ci sono dei lavori dove per entrare in una determinata stanza ci vuole molto fegato. Schifo! Vabbè, questo non è il nostro caso. Allora signori, benvenuti ad un altro video di New Wolf. Oggi volevo provare questo gioco essendo che l'ho visto in un canale di un famoso youtuber italiano ed essendo io appassionato di telefilm come si è sai, ho deciso oggi di portarvi questo gioco. Essendo che non lo conosco e sinceramente ho visto un piccolo spezzone di gameplay ho deciso che al momento non comprerò una licenza e quindi giocheremo una partita con il gioco versione demo. Allora vediamo cosa ci propone il gioco. Faremo, vediamo, 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 questo a livello. Il mio nome è Wolf, l'età diciamo che me l'hanno un pochino ingigantita. 58 anni sono un pochino troppi. Occupazione... Vabbè, non ve lo so dire perché sinceramente l'inglese non è il mio forte, però... Che schifezza. Allora andiamo a pulire la scena del crimine. Oh, che bello. Dove prendo l'acqua? Dove sei? Ah, guarda l'acqua. Vediamo, i tasti sono questi. Allora, io sinceramente sono del parere che le prime volte topperò col secchio e lo farò cadere. Dove sei? Però non è così difficile. Andiamo avanti a... Fare le belle lavanderine. Che schifo. Io prima o poi ho paura che il secchio lo faccio cadere. Uno, due. Abbiamo... Allora, sembra facile rispetto ai gameplay che vedevo che la gente si esasperava. Però tesoro, quando è il tuo periodo del mese, statene a casa. Anzi no, questa è casa. Diciamo, statene in una stanza e non imbrattare tutto. Vabbè. Ah, ho detto che l'ho fatto cadere. No, non è caduto. Ti ho dato un colpo, l'ho fatto cadere. Perché non sto zitto? Che devo fare adesso? Prendiamo un altro... Sì, diamo un colpetto al macchinario. Prendiamo un altro secchio. Lo sapevo che il primo secchio durava poco e anche il secondo stava per fare la stessa fine. Allora, puliamo di nuovo. Però non è stato difficile non cadere. Ma perché ti ho messo vicino alle scale? Perché l'ho messo vicino alle scale? Masochismo. Ma la spazzatura? Non è un cestino o qualcosa? Ah, va. Che sto facendo non lo so. Bicchiere. Ah, ve lo metto qui dentro. Lato. Il secchio non è più utile per l'app, sarà utile per la spazzatura. Aspetta, che cos'è questo cosa? Ah, ma questo mi dice dove sono le chiazze di sangue. Infatti, è impazzito. Ma... Ma se lo straccio è pulito, perché mi ha fatto lo schizzo? Ah, ma c'è un pezzo di cadavere. Che bello. Fatti vedere al sole. Fatti vedere la luce. Che cosa sei? Pratica, sto sporcando più di quanto dovrei pulire. Dove ti metto? Dove ti metto? Se passo davanti al sangue, sicuramente farò le macchie. Che schifo. Ti metto qui dentro. Sì, sì, c'è il sangue. Ok, pulito. Me lo porto dietro. E lo riempio. Ecco, io ho messo il secchio proprio vicino alle scale, così il lavoro che ho fatto è stato inutile. A parte non capisco che senso ha, tipo, le lattine chiuse. Ma saranno a stemmi. Sto buttando una lattina piena. Ecco, diamolo un po' il robottino. Tieni, alla salute, amico mio. Cin cin. No? 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 No, non vuole bere. No! No, ma vaffanculo. Ora di sicuro mi cade tutto. Infatti. No, non credo che sia caduto tutto. Non vedo nulla. Vediamo. Salve. L'impresa delle pulizie. Come va? Eh... Sta pezzo. Non vedo nulla. Oh, guarda che culo. Eh... Avrò molto da pulire qui. Allora, iniziamo col metterti qua e piano piano inizio a pulire. Ecco, lo dicevo. Allora... Adesso iniziamo a fregare. Andiamo verso il sangue ed i cadaveri. Pidiamo la luce. Vieni qua. Vai verso la luce. Ah. Devo essere in quel periodo del mese in cui lascio sangue. Comunque, sinceramente il gioco è abbastanza noioso. Meno male che non ho rotto la luce. Ne diamo in giro. Non noto altro. A parte il sangue che perdo io. Io ho già questo gioco l'odio. E' schifo. Sì, c'è sangue. Perfetto. Perfetto. Prendiamo questo e portiamocelo con noi. E' schifo. E' schifo. Allora, quanto ho capito, l'acqua non è più adoperabile. E' rosso sangue. E' più sangue che acqua. Quindi... Vabbè, riportiamoci via la luce perché mi servirà. Aspetta, mi sembra di aver visto del sangue. Infatti, eccolo qua. Prendiamogli una pulita veloce. Non ti rompere, non ci provare nemmeno. Pulito? Tutto pulito? Quel cartone non lo voglio manco toccare. Ho paura che mi cada. Prendiamone un altro. Non ti rompere, non ti rompere. Ok, rialziamo. E voilà. Ma poi avremmo bisogno di altra acqua. Infatti, ti metto qua. Ah, è schifo. Meno male. Pensavo che lo stavo per ribaltare. Venga con me. Chissà che cosa è questo di tanto bello. Comunque, ti metto qua dentro. Vediamo se c'è qualcos'altro che potrebbe sporcare. Vediamo. Andiamo. Mamma mia, penso che lo stessi ribaltando. Ecco, qua c'era un altro pezzettino di cadavere. Ora lo raccogliere. Tanto mi avvicino piano al secchio. Piano. Vediamo che cos'è. Ah, sembrerebbe un pezzettino di cranio. Vabbè, molto bello, molto carino. Lo mettiamo qui dentro. Altro pezzettino di cranio. Lo mettiamo qui dentro. Non provarci. A ribaltarti. Non si vuole fare pigliare. Andiamoci di colpo di scopa. Cos'è? Un piede. Beh, sinceramente mi sarebbe piaciuto avere una mano più con piede. Comunque, ci accontentiamo. Che schifo. Ecco. Avviciniamoci piano, piano. Signor secchio. Perfetto. Perfetto. L'acqua mi sta ridiventando color sangue. Quindi tra poco sarà inutilizzabile per l'ennesima volta. Andiamo qui. Che schifo. Eccola. Volevo una mano e adesso ho la mano. Guardatela là in basso a sinistra. Ecco la mia mano. Salve. Infatti ci stiamo dando la mano. Salve. Sono Mr. Wolf. Sono qui per pulire. Non fa ridere. Di nuovo il periodo del mese. Perché sento che sto sporcando. Giriamoci. Sì. E' qua. Devo dare il buon esempio Non devo dire parolacce Devo dare il buon esempio Non devo dire parolacce L'ho capito che c'è sangue Devo dare il buon esempio Qui dentro Ah perfetto Stavolta ci sei entrato Sì c'è sangue Perfetto Mi serve altra acqua Perché questa è un misto di acqua e sangue Anzi è più sangue che acqua Signori un altro secchio d'acqua Grazie Eccolo qua Sperandolo di non farlo cadere durante il trasporto Ecco fatto Sta andando a fuoco qualcosa Ah no Cos'è sta roba A parte che dovrò pulire ma Non pensavo che dovevo fare pure il pizzaiolo Vediamo Salve Margherita Quattro gusti No non c'è niente Forse ho capito Forse ho capito Sinceramente ho visto poco dei gameplay Quindi non sto scherzando Non sapevo che era trucoso Mi sapevo che ci devo buttare questo Non cadete Sennò veramente divento un diavolo Buona vita Ciao Anzi buona morte Vieni con me Pensavo che era un secchio Va qua e qua Ecco come ci arrivo lì sopra Forse ho capito Forse ci sono Perfetto 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 Qua è pulitissimo Salve Come va Tutto bene No Allora essendo che non ci voglio combattere Accolgo direttamente le parti E le butto direttamente nel fuoco Addio 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 Qui c'è niente che devo pulire Forse lì Sopra Lì sopra E infatti Non so perché l'ho aperto Potevo pure lasciarlo chiuso E farmi gli affari miei Acqua Grazie Che cos'è una mano Che bello Volevo tanto una mano No Veramente volevo il secchio con l'acqua Non cadere giù Ti odio Proprio Gioco molto interessante Molto divertente Come un calcio Nei paesi bassi No Che stavo facendo Allora Essendo che Non so se posso bruciare il secchio Io ci provo lo stesso Ciao Ti chiudo pure No no non ti chiudo perché Devo raccogliere ancora i pezzi Non c'è niente Sì Vediamo che qua c'è il vero schifo Non rompere la lampada Salve Salve Piacere Vaffanculo Sicuramente non vedo l'ora di finire questo livello Così Chiude il gioco E Abbiamo fatto questo gameplay Oh ma poi quant'acqua spreco Tiè Ma grazie Che gentili Un piede Tanto Sporco Sempre di più Ciò che dovrei pulire Questa volta Mi hanno dato dell'acqua Come volevo dimostrare Me l'ho dimenticato Che era sporco Quals'è il cannavazzo C'era un pezzo di cadavere Dove sei Eccolo là Ciao Tanto io risporco di nuovo Tanto perché Sono Masochista E stavo per rompere pure la lampada Vediamo se sopra e sotto C'è nulla No Perfetto Ecco La vedo qualcosa Che devo assolutamente pulire Cosa c'è qui Un piede Perfetto Piano piano Come potete Posso vedere Sto Pulendo La scena Del Crimine I bossoli Col cacchio Che li levo Ci vorrebbero una vita Solo per togliere Tutto quello Che hanno sparato Ma io fuori in culo Sì Einstein C'era il sangue Vabbè A che c***o 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 Perfetto Diciamo che L'ambiente È quasi sterile Nel dubbio Putto pure te Chi se ne frega Chiudiamoti Chi a che culo Ah perfetto Possiamo dire che L'ambiente Mare che vada È stato Sterilizzato Qua dentro Al volo Se non A finire Che Ti piglio Possiamo dire che Possiamo pure andarcene Vediamo Sto studiando Sto studiando Questo gioco Allora Io mi dovrei Tenere Per un bel Vaffanculo Lo dico Volentieri Mi stanno dando Tutti parti anatomiche Io vorrei Il contenitore Mi stanno dando Tutti parti anatomiche Perfetto Di nuovo Tutto sporco Vediamo se tu sei pieno No Potevo usare te Per finire Di raccogliere Certe cose Invece Il mio senso Del masochismo Mi ha portato A fare questo Ora pure tu Dammi qualche altro Pezzo di cadavere E siamo a posto Perfetto Io le cose Me le chiamo Me le voglio Vieni con me Ti porterò lontano Perché Mettiamoti qua dentro E sinceramente Buttiamoti a terra Perché già Mi sto irritando Allora Volevo raccogliere La spazzatura Ma sinceramente Ah ecco Ora mi hai dato Un secchio Sinceramente Mi sono arreso Appena finisco Di pulire Di nuovo Prendo E me ne vado Come potete vedere Questo è il macchinario Che mi dice Che ho finito il lavoro Ho finito No Se c'è sangue Allora Allora Raccogliamo Due Due Qua è solo Lattine Non fargli il piedino E' una battuta Molto Trash Come il secchio Perfetto Perfetto Sangue E' un secchio Mettiamoti Qui dentro Non vedo sangue Più da nessuna parte Io sinceramente Io sinceramente Questo video vi abbia togliato abbastanza Per quanto mi sono innogliato io Signori da Walls Una buona domenica a tutti E ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao